Eccoci ragazzi. Ciao Moreno. Come state? Bene, bene. Tutto a posto? Alla grande. Ciao Giuseppe. Ciao Enzo. Ciao Moreno. Guardate con cosa sono venuto. Questo è un esemplare unico disegnato da Gévin, lo stesso stivista della Charleston. Ma piuttosto come sta andando il nostro progetto. Procede. Lavoriamo a ritmi serratissimi. Ma oggi mi fate vedere qualcosa? Sono qui a posta. Eh dai dai dai. Andiamo a vedere. Eccoci qua. Oh che spettacolo. Allora alcune cose già le vedo, altre credo che non siano così visibili. Giuseppe inizia a raccontarmi da dove siete partiti e che modifiche avete fatto. Il progetto Citroen in realtà racchiude un po' tutta quella che è la filosofia del South Garage. Si sintetizza forse in una frase. Stravolgere senza sconvolgere. Base di partenza Triumph Bonneville rigorosamente a carburatori. Per noi era fondamentale dare un imprinting stilistico immediato mantenendo fede alle linee della Charleston senza però attuali interventi invasivi su telaio ciclistica e motore. Lavorare come fratello è un'ardua sfida nel senso che Giuseppe è una persona molto esigente. Sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Giuseppe vuole le cose molto precise, strutturate, fatte in un certo modo. Stargli dietro forse delle volte è molto faticoso, in ogni caso è sempre mio fratello, quindi lo conosco, non so come portare avanti qualsiasi tipo di progetto. Noi abbiamo voluto riproporre sulla moto i vecchi passaruota della Charleston, con queste bombature, con questa presenza prorompente. Infatti se la parte davanti diciamo è più o meno originale, dietro invece il colpo d'occhio ti richiama subito alla due cavalli. Ma sono proprio uguali, uguali, uguali oppure c'è qualche modifica? In realtà sono fedeli al 95%. Ho cercato di posizionarle in modo giusto, di capire se si dovevano allargare o stringere. Poi ho cominciato a fare tutta la parte in lamiera con i fianchetti. Le sovrastrutture che sono state create ad hoc attraverso saldatura e lavorazione della materia vengono chiaramente installate per poi essere rimosse facilmente dalla moto, quindi il design è stato creato intorno al telaio originale. È un progetto reversibile quindi? Assolutamente, come nella nostra tradizione. Perfetto. E questi scarichi invece? Questi sono scarichi originali della moto. Generalmente in un progetto custom la prima cosa che si cambia, quasi una delle prime, è lo scarico. Questa volta invece abbiamo ragionato al contrario. Ogni progetto lo faccio con dedizione e con cognizione di causa. Non si cambia solo per il gusto di cambiare, ma si cambia quello che è giusto cambiare. Quindi ho voluto mantenere il serbatoio e nello specifico in questo caso anche lo scarico. Questa forma bottiglia si integra perfettamente nelle linee della bombatura e della libreria. Ovviamente in questo caso dove vedi questo segno verrà, diciamo, tagliato e risagomata per far sì che il terminale con le sue bombature esca a mezz'aria sotto la parte della carene. Funzionalità a servizio dell'estetica ed estetica a servizio della funzionalità. Tutto deve avere un senso e soprattutto tutto deve funzionare bene. Le sagome, gli spigoli e i raggi li abbiamo riproposti anche nel parafango anteriore perché chiaramente la charleston nello specifico si caratterizza per questo suo aspetto abbastanza imponente per queste sagome pronunciate. Per quanto riguarda il discorso dello stile di guida questo dipenderà molto dall'alloggiamento delle pedane. Siamo stati liberi di voler riversare, sulla moto, tutto quello che ci passava per la testa. I due fari della charleston come sulla macchina verranno posizionati sul parafango anteriore, ai lati delle forcelle. Quindi avremo questa moto con questi due grossi occhioni, magari li lasciamo anche a vetro giallo, no? Esatto. Fanno tanto vintage. Riproporremo un po' il frontale rivisitato e messo a moody portoggetti. E' vero che la prima volta che il nostro portoggetti vuole un po' emulare il logo della Citroen e che viene messo in questa posizione a moody portoggetti, ecco. È vero che la prima volta che mi viene chiesto di ispirarmi a un'auto per fare una moto, ma di fatto in realtà le auto ispirano tantissimo il mio lavoro. Tra l'altro io lì vedo il progetto più o meno definitivo, lo vedo là. E se questa cosa qui diventa quella roba lì, insomma ci divertiremo a Lakema. Tantissimo. Ecco, ma questa moto qua, come la chiamiamo? Una domanda da 100 milioni di dollari. Vabbè, ci pensiamo. Quando torno magari un nome è saltato fuori. Voglio creare un'aspettativa in tutto questo. Il progetto sarà ancora più figo di quello che vedi in foto. Benissimo, quindi io non vedo l'ora di venirla a rivedere quando sarà praticamente finita. Ti aspettiamo per la prova. Grazie ragazzi. Grazie, grazie a te.